A livello occupazionale i giovani possono trovare un nuovo aiuto e anche spingersi diciamo verso il mondo dell'imprenditoria? Assolutamente sì, ormai proprio essendo in un momento di difficoltà il giovane può supportarsi con le proprie forze e con le proprie braccia quindi perché non dare efficacia alle idee del ragazzo che possa o della ragazza che sia e dare la possibilità a loro di esprimersi nel loro modo perché nel nostro cervello, nelle nostre idee dei nostri ragazzi del nostro territorio ci sono anche idee che se non stimolate purtroppo non si realizzano noi vogliamo stimolarle e rendere possibile quello che loro sognano